Buongiorno e benvenuti a tutti alla conferenza finale del progetto Replay. Prima di dare la parola al padrone di casa, al sindaco, per i suoi saluti, vorrei spendere due parole per spiegare il motivo per cui siamo qui, che chiaramente noto a chi questo progetto ha ideato e al quale ha lavorato e forse meno noto ai giovani che vedo qui numerosi stamattina, che ringrazio perché stanno sacrificando il loro sabato mattina per un convegno, faremo di tutto per essere all'altezza del vostro interesse. Allora, una convenzione, un trattato internazionale è un accordo tra stati. Né più né meno gli stati si mettono d'accordo che esiste una piattaforma di legalità comune che andranno a dividere, cioè quello che è legge in un paese sarà legge in un altro. All'interno di quella che è la convenzione più firmata, più accettata dagli stati nel mondo oggi nel diritto internazionale, la convenzione sui diritti dell'infanzia, esiste un articolo, l'articolo 31, che sancisce una serie di diritti. Il primo è il diritto al gioco, poi il diritto al riposo, al tempo libero e attività ricreative. Questo progetto si è concentrato sul primo di questi diritti, il diritto al gioco. Non è una peculiarità soltanto italiana, ma proprio perché si è trattato di un progetto europeo l'abbiamo riscontrata in altri paesi. In realtà, quello che dovrebbe essere un po' il dovere del potere legislativo in tutti i paesi, cioè l'adattamento di questo accordo alla legislazione interna. Ci mettiamo d'accordo che il gioco è un diritto? Bene, noi predisponiamo il nostro ordinamento e le nostre amministrazioni locali affinché questo diritto possa essere recepito. Questo in Italia non è ancora avvenuto, così come non è avvenuto in tanti paesi. Questo progetto ha, lungi dal voler dare una soluzione a questo problema, ha voluto prepotentemente nel nostro piccolo sottolineare questa carenza, che indipendentemente dalle carenze pertinenti, proprie a un ordinamento, è una carenza di responsabilità nei confronti di quello che dovrebbe essere l'interesse primo di un paese, l'infanzia. Signor Sindaco, questo progetto da questo punto di vista è stato un capolavoro. Noi abbiamo in tutti i modi cercato di sottolineare che questa è una carenza importante, che ferisce l'infanzia sin dall'inizio, perché il diritto al gioco ha aspetti pedagogici che vanno al di là di quello che normalmente viene considerato un semplice passatempo. Le do subito la parola, sono in chiusura, questo capolavoro, come tutti i capolavori, come tutte le imprese, ha avuto dei paladini, sono tanti, io per questioni proprio di tempo ne scorderò infinitamente, vorrei ricordare l'Incipit, che è venuto dal dottor Ghiletti nella passata amministrazione, le barricate che ha fatto il presidente del CONI, che mi fa molto piacere di vedere qui stamattina, e il presidente Barbieri, e chi ci ha portato in porto, che è il suo assessore, con una pazienza e una calma che ci ha aiutato a tutti ad arrivare oggi, che spero, e spero sia anche nelle sue intenzioni, non sia la conclusione, ma sia l'inizio di una presa di responsabilità e di coscienza di questo gesto eroico che la città di Parma, insieme alle altre città, ma la città di Parma come capogruppo di questo progetto, hanno fatto in questi tre anni. Intanto mi alzo così, magari anche da dietro riescono a vedere, non che io sia tanto alto, però almeno in piedi faccio meglio. Parto proprio da questo spunto, al di là di salutare tutti le persone presenti qui oggi, ma partiamo proprio da questo. Ne parlavamo prima anche con l'assessore, quindi di introdurre all'interno delle deleghe del comune di Parma, della provincia, comunque cominciare a introdurre il concetto di diritto al gioco, quindi non solo parlare, nel nostro caso, di sport e politiche giovanili, ma di diritto a quello che deve essere il gioco, perché ci è sembrato un concetto importante da far sviluppare, anche solamente per le persone, per le amministrazioni che non hanno seguito il nostro percorso e non conoscono questo tipo di iniziativa, sensibilizzarli a capire questo tipo di concetto e magari a farlo proprio all'interno di un percorso di quello che abbiamo fatto noi. Quindi, partendo proprio da questo spunto, mi unisco soprattutto a voi nei ringraziamenti delle persone di tutti gli altri Stati europei, ma anche delle persone, dello staff del Comune di Parma che hanno attraversato questo periodo, si sono impegnate per realizzare tutti gli eventi che abbiamo fatto a Parma e in Europa, perché hanno rappresentato, secondo me, un bel momento per la città di Parma e non solo per far capire la sensibilità che c'è per questo tipo di iniziative, legate soprattutto ai bambini, in cui noi abbiamo sempre detto come amministrazione saremo comunque sempre presenti, perché il far giocare i bambini, che saranno ovviamente gli adulti di domani, è un concetto fondamentale per la loro serenità, per la loro crescita culturale, psicologica e quindi come faranno ingresso nella società. Questo viaggio spero non si concluda oggi, si conclude come esperienza di progetto, ma spero che sia un inizio invece di un lavoro che possa invece attraversare magari più l'Italia, oltre che l'Europa, perché secondo me dobbiamo contagiare soprattutto gli altri comuni a questa sensibilizzazione, gli altri comuni di altre regioni e quindi non vediamolo come il punto d'arrivo e la conferenza finale, ma soprattutto un punto di partenza, perché io che non conoscevo queste tematiche prima di affacciarmi a questo progetto, le ho trovate veramente molto belle, sensibili, su cui si è lavorato tanto e penso però tanto si possa ancora fare, quindi non lasciamoci con un chiudiamo qui, è stata una bella esperienza, ma questo ci ha fatto dare una scintilla di partenza per il futuro. Grazie a tutti. Bene, grazie signor Sindaco e siamo contenti di sentire anche lei entusiasta verso la prosecuzione. Nell'arco, lo dico a beneficio socialmente del pubblico, nell'arco di questa mattinata ci saranno due momenti molto importanti e inediti. Questo progetto è stato così involontariamente il precursore di un parere da parte delle Nazioni Unite, un parere che è stato dato dall'Assemblea Generale in una delle sue commissioni due settimane fa, orientante i paesi firmatari di questa convenzione su come applicare il diritto al gioco. Avremo una, passatemi il termine, una previews perché sebbene questo commento sia passato agli atti non è stato ancora pubblicato e non è quindi ancora pubblico, è questione di giorni. Però avremo Margaret Westwood come rappresentante dell'IPA, dell'International Play Association, che ci dirà alcune cose. E quindi è un'altra nota d'orgoglio il fatto che Parma si sia messa insieme con altri sette paesi a lavorare in modo anticipatorio rispetto a quello che poi era una carenza, una formulazione di indicazioni che addirittura vengono dall'Assemblea Generale dell'Ono. L'altro momento molto importante sarà la presentazione dei dati di questo progetto, cioè ci sono stati dei questionari che nei paesi che hanno partecipato al progetto sono stati fatti e quindi abbiamo cercato di capire qual era la percezione di questo diritto o la percezione della mancanza di questo diritto da ragazzi, da studenti, da bambini, dai loro genitori, dai loro professori e da adulti in generale. Quindi questi due momenti verranno questa mattina presentati per la prima volta in assoluta e visto che siamo in un contesto internazionale ci si consente in assoluta mondiale. Un altro degli elementi importanti che è avvenuto qui a Parma è stato il cercare di coinvolgere lì dove era possibile con i mezzi che avevamo a disposizione, di coinvolgere la società civile rispetto a questo progetto e a Parma come in altri paesi è stata stabilita una consulta e ho qui il vicepresidente, il professor Walter Antonini della consulta, a quale chiedo intanto di dire due parole perché poi ci sarà una tavola rotonda proprio su questo tema. Intanto porto i saluti del nostro presidente della consulta che è il professor Rizzi e ci tengo a dire che oggi non è presente perché sta facendo qualcosa che è assolutamente vicino a quello che facciamo noi oggi. Oggi sta facendo un trasloco da un vecchio ospedale al nuovo ospedale dei bambini. Perché lo collego? Perché nel nuovo ospedale dei bambini c'è tutta la cultura dell'articolo 31, c'è tutta la cultura del giocare perché all'interno di questo nuovo ospedale dove ci sono dei bambini ovviamente temporaneamente in cura sono stati creati degli spazi, sono state create delle realtà e delle occasioni dove si gioca, dove non sono previsti impianti sportivi o sale con Game Boy, eccetera. Sono previsti spazi dove i bambini giocano con la fantasia, dove giocano con la propria creatività, con lo spazio, dove trasformano una sedia in una macchina, in un cavallo, dove ogni piccolo oggetto può diventare qualcosa sul quale giocare. Quindi anche in un momento difficile come quello della cura, della terapia, sono dentro e stanno comunque riscoprendo, grazie a dei volontari che sono veramente bravi e sono eccezionali nel saper stimolare la capacità del gioco. È una cosa importante, credo, perché spesso noi abbiamo abbinato il gioco alla parola sport. Non è la stessa cosa e non è sempre così. Sono importanti tutti e due questi momenti. Ma è importante soprattutto pensare che lo sport ha delle regole, ha delle cose estremamente importanti, aiuta il fisico, aiuta la prevenzione, aiuta la socializzazione, ma il gioco è qualcosa che si aggiunge, qualcosa in più. È qualcosa che stimola la fantasia. Quando è nata la consulta abbiamo provato a capire cos'è che ci mancava del gioco, senza per forza voler trasferire le esperienze di chi ha un bel po' di anni come noi e i ragazzi piccoli di oggi. Però mancano probabilmente, manca o facciamo, c'è il rischio che mancano in tutta Europa dei passaggi. Per i ragazzi di oggi. Cioè quello di creare il proprio gioco. C'è una frase bellissima che dice sempre il professor Rizzi quando parliamo del gioco in ospedale e che cita l'amico che abbiamo qui in prima fila che dice quando un bambino è in ospedale e va qualcuno per farlo giocare, la prima cosa che chiede è a che cosa e con cosa. Quindi i nostri bambini in questo momento hanno delle grosse difficoltà a decidere di giocare senza regole, senza stimoli. Quindi c'è una necessità che credo che sia una necessità che copre tutto l'infanzia dell'Europa. E quindi è bellissimo questo progetto. E' importante che rimanga. Apprezzo tantissimo l'idea del sindaco, del comune e del suo assessore che assieme al CONI e alle altre strutture hanno intenzione di continuare questo percorso. Perché è importante portare ovunque il messaggio che c'è da riscoprire il bello del gioco. Dopodiché servono delle cose importanti. Serve ad esempio che nella legislazione, credo europea, perché se aspettiamo solo quella del nostro paese forse ci metteremo un po', però se parte con quella europea noi ci dobbiamo adeguare. Quindi a ricreare gli spazi, ad esempio, nei quartieri, nei rioni, a ridare spazi protetti, perché dai questionari viene fuori spesso il timore che è la sicurezza. Lasciare dei bambini giocare in strada oggi è pericolosissimo. I nostri tempi si faceva, però oggi è molto molto difficile se non impossibile. Però bisogna creare degli spazi protetti e sicuri in cui i bambini possano essere lasciati giù non necessariamente con un pallone. Quindi credo che il diritto al gioco, così come la consulta, nelle tante occasioni che ha creato, abbia comunque tracciato un piccolo percorso, un percorso estremamente importante, di cui facciamo tesoro all'interno del progetto Replay, ma che ci auguriamo possa essere condiviso in tutti i paesi europei, proprio perché è una filosofia, cioè che il diritto al gioco parte non solo garantendo la possibilità di fare sport, come è sempre stato considerato, ma proprio riportando la parola gioco alla sua origine. Giocare con la fantasia, giocare con poco, giocare mettendosi in gioco con altri ragazzi pari età. E credo che di questo dobbiamo essere grati a voi che ci avete dato uno strumento importante come il progetto Replay. E adesso sta a tutti noi provare ad approfondire, a tenere, come si dice in questo periodo, a tenere botta sul mantenimento e sul sviluppo del diritto al gioco. Grazie. Grazie a tutta la consulta, forse altro perché ha fatto tutto questo a titolo volontario, e poi perché senz'altro è attraverso la comunicazione e la sensibilizzazione che si riuscirà forse a essere coesi nella soluzione di questo problema o nell'indicazione di alcune soluzioni. Una delle nostre ossessioni, cioè delle ossessioni degli ideatori di questo progetto, era rilevare come, rispetto a diritti sanciti in maniera tradizionale, e anche dalla stessa convenzione sui diritti del fanciullo, cioè diritto alla salute, beh, se sto male vado in ospedale, diritto all'istruzione, ci sono le scuole, ci sono gli asili, diritto al gioco, dove vado? Se un genitore non ha la capacità, non ha la fantasia, non ha le possibilità di far giocare il proprio bambino, dove è la sponda d'aiuto? Oltretutto il gioco è proprio una disciplina che nasce come deregolata, come non osservata. Se uno comincia a dare delle regole dall'esterno ai bambini per giocare, non è più gioco. Quindi avevamo un rompicapo impossibile, era quasi impossibile non essere intrappolati in una contraddizione che è prima di tutto sociologica, pedagogica e poi anche amministrativa. Dici due parole. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Io penso che la vera sfida non sia l'identificazione di luoghi o forme, ma davvero partire dal concetto che è primordiale, l'attenzione alla persona, intesa come individuo e come parte di un tutto. Una persona che è una persona piccola, una persona bambina, una persona adulta, perché il gioco del bambino comunque è quel mattone che sta alla base di tutta una società, perché si sviluppa da lì. La coscienza del sé, la capacità di risolvere i conflitti, il rapporto verso l'altro, il rapporto verso l'ambiente che mi circonda, l'ambiente in cui vivo, le strutture, eccetera, eccetera, eccetera. Però, fin tanto che il gioco del bambino non è un problema, se vogliamo chiamarlo problema, comunque un argomento di cui tutti sappiamo di doverci far carico, si ritornerà sempre ad aspettare che sia un qualcuno, un qualcosa a risolvere. Il fatto che tante volte si parli, che quando si parli di gioco spesso si ritorni alla propria infanzia e soprattutto nelle generazioni che meno hanno avuto, hanno più giocato, è un segnale che non deve passare inosservato, perché comunque la differenza sta nella fantasia e in quanto una società si possa permettere il lusso di stimolare questa fantasia. Sono argomenti molto grandi, però è un paradigma culturale che deve cambiare o che, se vogliamo, dobbiamo impegnarci a far cambiare. Perché interrogarsi sul diritto al gioco vuol dire pensare necessariamente a dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini di inseguire i propri talenti, di dargli la possibilità di sognare che cosa vogliono essere senza imporgli che cosa debbano diventare e quindi coinvolge un modo più maturo e più impegnativo anche di essere genitori e di accettare in un qualche modo le scelte del bambino che di fatto in un'età si può permettere di sognare l'astronauta e non è giusto dirgli che non lo deve o non lo può diventare. Allo stesso modo ci interroga sulla capacità di noi adulti di rapportarci con i bambini in una società che ci ha costruito addosso delle sovrastrutture per le quali siamo imbarazzati di fronte a un bambino. Siamo in un certo senso impacciati nel giocare perché probabilmente troppo impegnati a difendere il nostro essere adulti siamo imbarazzati nel dover magari prendere a cavalluccio un bambino in città in strada è una cosa che ricordo ero con mia cugina con la bambina piccola stavo andando in via Mazzini in centro a Parma e allora ho detto vieni che ti prendo in spalla e la mamma no ma no ma ti vergogno perché? no? Si vedono pochi i genitori con i bambini sulle spalle o che hanno un rapporto fisico giocoso nella quotidianità e questi segnali però l'esigenza c'è e risalta fuori quando poi succedono quelle cose inaspettate nevicata big snow nevicata importante in città la pulizia della piazza ha creato queste montagne di neve e i bambini sono tutto il giorno sopra a buttarsi a giocare quindi quando poi succede qualcosa di imprevisto che scardina ma anche banale che scardina la quotidianità imposta da delle sovrastrutture sociali allora non sappiamo come fermarsi allora la potenza del gioco viene fuori quindi come dicevo la capacità la volontà di farsi carico tutti quanti di quanto sia anche facile semplicemente lasciarsi andare lasciarsi guidare seguire l'esempio dei bambini che non hanno problemi che non devono avere problemi nel poter anche abbracciare un albero senza aver paura di sporcare un vestito che non devono avere paura di poter utilizzare un cancello come un castello perché altrimenti c'è una macchina che passa impazzita e rischia di danneggiarli quindi essere garanti della loro libertà di esprimersi perché da quella libertà nasce poi la sicurezza del sé nasce poi l'autostima nasce poi la capacità di applicare la fantasia alla risoluzione dei problemi e non sono cose da poco sono quelle life skills che sono fondamentali nella crescita dell'uomo e della persona grazie grazie grazie